Ciao a tutti, io sono Moreno e vi do il benvenuto su Carbrui, noto a birra fatta in macchina il primo e unico podcast in Italia che parla di birra artigianale, birra fatta in casa, homebrewing e tutto quello che riguarda questo fantastico mondo oggi è una bella giornata, di sole, sto guidando per andare in cantiere come ogni giorno e durante il tragitto volevo parlare con voi di analisi non quelle del sangue, non quelle delle urine, ma quelle dei malti allora, uno strumento molto molto utile per sia chi ha iniziato da poco a entrare nel mondo dell'homebrewing sia per chi è già da un po' in questo mondo, ma magari vuole cambiare maltatore, vuole cambiare tipo di malti o si trova a usare un malto che non conosce uno strumento utilissimo per tutti è l'analisi del malto oltre a quello che si fa normalmente, o almeno che io faccio normalmente cioè prendere il malto, masticarlo, annusarlo, prima di farla cotta per capire un attimino cos'è, che contributo dà, che gusto ha e quelle cose lì un'altra cosa molto utile sono i tè di malto e vi spiego subitissimo come fare a parte che trovate online molte guide, molte cose il tutto è molto molto semplice partiamo con la base, cioè 50 grammi di malto in 450 ml di acqua la temperatura è 65 gradi, 66 circa quindi facciamo uno steeping, come se facessimo EPG praticamente prendete il malto base, lo macinate molto fine e lo mettete dentro un termos, un contenitore con l'acqua calda appunto mescolate per 20 secondi e lasciateli riposare per circa 15-20 minuti prendete, se avete un filtro per caffè e così di meglio se no io ho usato anche della carta filtro, che va bene uguale messa in un passino quindi filtrate il liquido che ne è uscito fuori vi consiglio di filtrarlo due volte cioè di ripassarlo, di versarlo appunto in una tazza per dire in una tazza, buonanotte in un contenitore che tenga appunto il quasi mezzo litro lo versate, dopodiché lo rimettete nel contenitore originale e ci fate fare un altro passaggio nel filtro in modo da prendervi tutto il particolato tutto quello che può essere ancora nel contenitore iniziale e andare a filtrare un pochino meglio lasciate il tutto riposare finché non va a temperatura ambiente circa e siete pronti per la degustazione del malto vi consiglio di non aspettare oltre le 4 ore comunque perché se non inizia a perdere molto o comunque ossidarsi e tutto il resto se volete invece andare a fare analisi sensoriale di malti speciali malti caramel, malti crystal o cose simili brown vi consigliano di usare il 50-50 quindi usate il 50% di un malto base non molto contribuente che non dà molto sapore quindi non so, il 50% per esempio di Pils e il resto anche il 50% del malto speciale che volete andare ad analizzare che si tradurrebbero su 450 ml in 25 grammi di Pils e 25 grammi di Cara Red per esempio la procedura resta identica per il resto se invece avete malti tostati o arrostiti come non so, del black, del roasted barley del chocolate o via dicendo allora le percentuali si riducono ancora si parla di un 15% circa di malto arrostito e restante 85% di malto base sempre Pils per esempio che è quello che conviene usare secondo me perché è quello che dà meno contributo e nel caso di prima su 450 ml si traduce in 42,5 grammi di Pils e 7,5 grammi di chocolate per dire, oppure quello che volete è una cosa molto figa perché potete fare sia per esempio per vedere differenze tra il malto Pilsner della Dingemann e il malto Pilsner della Best Malz oppure tra un biscuit e un victory che comunque non sono simili cioè non sono uguali ma sono magari a volte dati come sostituti nelle varie ricette quindi se avete possibilità di vedere cosa fa uno e cosa fa l'altro diventa molto molto interessante secondo me niente concludo questa questa chiacchierata odierna e vi ricordo che ci sono centinaia di puntate ad attendervi se non le avete ascoltate tutte andate ad ascoltarle e le trovate sui soliti media che sono Youtube Soundcloud iTunes Spotify Google Podcast oppure comunicate i vostri pensieri quello che volete a Daniele a carbrewing.com perché questo non è un monologo ma un dialogo vi saluto vi auguro una buona giornata e ciao 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 ciao